La vicenda che ha portato, ha reso tutti noi consapevoli del fatto che a Ostia vi fossero le mafie è una vicenda che è nata proprio da un evidente segnale di voto di scambio. Io posso parlare così, i magistrati dovranno accertare chiaramente, ci saranno le indagini, ma non ci sarebbe stata quella reazione se la domanda da parte del giornalista non fosse stata così imbarazzante. E' vero o no che voi avete avuto delle relazioni con una determinata lista che si è presentata? Ecco, quindi tutte le elezioni ci devono trovare preparati e avere un atteggiamento preventivo. Il ministro degli interni ha chiesto un patto a tutte le forze politiche. Io credo di aver ripetuto in questi quattro anni mille volte a tutti i candidati dichiarate che non volete i voti della mafia, perché non è vero che i voti non odorano e non hanno odore o i soldi non hanno odore. I soldi e i voti delle mafie puzzano, condizionano. Una volta che li avete presi e che magari vi sono serviti per vincere, poi chiaramente condizionano la vostra azione politica e la vostra azione amministrativa. Ma siamo arrivati all'inchiesta di Protone che ormai il mafioso, l'ondranghetista, diventa lui stesso espressione diretta della politica. Si fa eleggere o chiede al partito politico che gli chiede i voti chi sono i candidati che devono essere votati e devono essere presentati. Evidente allora che questa è la consapevolezza fondamentale.